Devo ringraziare veramente questo gruppo di ragazze che si sono messi a disposizione mia e Di Marco. È stato un mese e mezzo molto intenso, abbiamo lavorato duramente soprattutto sulla parte fisica e penso che questa cosa abbia pagato perché resistere cinque partite non è semplice. Infatti oggi abbiamo subito il contraccolpo della partita di ieri, le fatiche di ieri sono state importanti, abbiamo fatto una grandissima partita, però ripeto siamo molto soddisfatti perché è andato tutto per il meglio. Onorare a Riosto anche perché nell'ultima giornata, quando i giochi, anche se ancora non matematicamente, però erano fatti in vostro favore, avete onorato lo sport della palla a mano e la partita, giocandola fine alla fine, pareggiandola contro il chiaravano. Mi sembra proprio il minimo questo, rispettare tutti, chi ha giocato. Io penso che fare così, giocare così vuol dire rispettare anche la stessa Chiaravalle che oggi doveva giocarsi tutto per la promozione. Noi abbiamo rispettato il campo, tutte le ragazze hanno dato il massimo, c'era chi non ne aveva più e io penso che sia giusto così. Cos'è cambiato in questo gruppo dall'arrivo a Ferrara, tu e Di Marco Trespi nella gestione di questo gruppo? Io penso che sia soltanto un discorso motivazionale, era un bel gruppo, anche penso ben allenato a livello fisico perché le ragazze non stavano male, però avevano perso un po' di autostima credo, ora non so per quale motivo, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo cercato tutte le sere di motivarle, anche le ragazze che non giocavano, che giocavano meno, hanno, almeno a detta di chi era presente prima, hanno dato qualcosa in più e questo per noi è motivo di orgoglio perché ha un bel vivaio Ferrara su cui bisogna lavorare tanto e penso che ci siano ragazze molto interessanti per il futuro. Personalmente per te aggiungi anche un nuovo tassello in una tua non lunghissima carriera, ancora giovanissima d'allenatore, ma in cui hai vinto tanto già nell'ultimo decennio. Sì, purtroppo quest'anno ho iniziato, non ho potuto finire quello che ho iniziato e fortunatamente mi si è presentata questa occasione di poter vincere comunque qualcosa anche quest'anno. e diciamo che ho portato avanti l'obiettivo anche quest'anno, sono contento e cosa chiedere di più. Praticamente abbiamo fatto tutto un anno dove siamo arrivati primi nel girone, più gol fatti, meno gol pressi, i due capocannonieri. Qua stavamo facendo anche un playoff bellissimo, ma ieri era proprio una giornata che siamo entrati, giornata no. Oggi ci sono stati altri bassi, forse per quello che è successo ieri, ma si vedeva già più gioco diciamo. E io sono contento perché è un gruppo di ragazze che qualcuna la conosco quando aveva dieci anni. Io sono tornato da sette anni, otto anni di essere fuori insieme sul Tirol e volevo dargli un po' questa cosa, di riuscire ad arrivare in A1 e ci siamo riusciti. Obiettivo per voi rispettato, perché era questo un po' l'obiettivo della vigilia di questo campionato. Sì, praticamente l'obiettivo era arrivare al playoff, ma la società vuole andare in A1. Per quello anche questo era un po' lo scopo di tutto l'anno, senza dirlo era anche giocare per arrivare in A1. Io ho avuto la possibilità due anni fa con Brunico, non ci siamo riusciti e adesso dovranno iniziare a preparare tutto per il prossimo anno. Sì, questo ha un sapore speciale, sono molto felice perché questo gruppo di ragazze dell'Ariosto Ferrara ha fatto vedere veramente in questi cinque giorni grandissime cose. È stato veramente un lavoro di squadra, un lavoro di gruppo e siamo molto molto e ancora molto felici di questo risultato. Promozione voluta e costruita nel corso dell'annata, no? Sì, una promozione voluta. Ovviamente sapevamo di essere una squadra che aveva le possibilità, però sai, poi quando arrivi qua sono cinque partite in cinque giorni e non è facile il fisico, l'emozione, insomma tutto quello che comporta. E quindi sono veramente tanto soddisfatta perché di fatto non abbiamo perso una partita. La gara della svolta, quella contro l'Eno, venta di 15 per poi andare in scioltezza, diciamo così, nella gara dell'ultima giornata che comunque avete onorato fino alla fine pareggiando. Sì, assolutamente. Io credo che la gara di ieri rappresenti esattamente il concetto di squadra perché la squadra non è solo chi gioca, chi è in campo, ma chi è in panchina, lo staff, gli allenatori, i fisioterapisti e la stessa società che ha Ferrara, i tifosi che sono venuti qua e tutti quelli che ci hanno supportato, anche sopportato un po'. Quindi ieri è stato proprio, cioè il concetto squadra, ieri è stato evidentissimo. Sì, è un'emozione incredibile. Scusate, mi viene da ridere perché ho tutte le compagne. È un'emozione incredibile. C'ero già nel 2018 quando i play-off siamo andati in Serie 1 e rivivere questa emozione è qualcosa che non si può spiegare. È un gruppo nuovo, sono tutte ragazze giovanissime, sono due anni che ci stiamo impegnando per raggiungere questo obiettivo e finalmente ce l'abbiamo fatta, quindi siamo veramente felicissime in questo. Squadra costruita con l'obiettivo di vincere, alla fine avete rispettato i pronostici? Assolutamente sì, infatti quest'anno anche grazie al nostro allenatore Sartori siamo migliorati tantissimo. Abbiamo fatto una crescita esponenziale e penso che si sia visto dai risultati. Ci dispiace molto per la partita di ieri contro Ferrara, siamo andate in crisi mentalmente proprio, ma oggi ci siamo riprese, abbiamo giocato di squadra e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Grazie a tutti.